Aldo racconta. Sì, io racconto, vedo in fondo una luce di speranza. Ebbene, è la penultima sera, o l'ultima sera, poi non ci sarò più. Parto, parto, vado dove mi porta il cuore. Parto. Oggi sono ancora all'Interland di Baggio. Adesso sto raggiungendo la casetta dei sette nani. Sono i giorni della Merlo. Dovrebbero essere più freddi, ma in realtà oggi c'è una temperatura ideale per fare il viandante, per girovagare, come faccio io sempre negli intorni di Baggio, Trenno, Quinto Romano, Quarto Canino, eccetera, eccetera. Anche oggi ho fatto dieci chilometri a piedi e adesso sto raggiungendo la mia abitazione. Però sono gli ultimi giorni. Poi parto, vado come in un libro famoso, dove in una località dove mi porta il cuore. Ebbene, sì, sì, febbraio tutto cambia. Anche marzo ho avuto l'opportunità che qualcuno mi concedesse un attimo di relax, dove la mia gioventù può rinascere anche all'età della mia età. Non dirò gli anni, ma sono tanti. Tra poco compio gli anni. Ebbene, rinasco la terza gioventù. In fondo al viale c'è questa luce di speranza, dove io sono quasi arrivato e vedo i miei sette nani con Cenerentola. Questa località da me è tanto cara. Eccola qua. Eccoli qua. Cenerentola e sette nani. Sono qua. Ho raggiunto il mio viale del desiderio che la mia vita continua. Ogni volta un tunnel buio. Poi sotto quel buio lì vede in fondo, in fondo sempre una luce che mi dà una speranza a nuova emozione, a una nuova vita. Ebbene, mi sono piaciuti questi due mesi che ho fatto il viandante nell'Interland di Milano. Ho viaggiato tanto. Viaggiato non si può dire camminato, camminato. Ma ora che da febbraio ho l'opportunità di viaggiare partirò per un viaggio chiamato amore. Non si sa dove andrò. Ma forse questo, forse è l'ultimo YouTube. A meno che la mia idea sia sempre sorprendente e entusiasmante da chi mi ascolta perché la mia fine ogni volta la voglio avere. Ma poi ricomincio dalla fine un nuovo principio dove il mio senso di girovagare non finisce mai. Ogni volta dico basta, basta. Poi medito, rifletto e dico si riparto di nuovo per nuove località. Questo bel viale, si può dire, illuminato di Baggio che io sto andando verso casa mia. Ho trascorso in questi due mesi una beatitudine, una sicurezza tale che non mi sembrava neanche inverno, sebbene in casa mia non ci fosse calorifero. Però non sembrava inverno e sono stato benissimo, benissimo. Al giorno d'oggi vogliono far star male in televisione, in politica, quelli che stanno bene. Al giorno d'oggi è così, vogliono far star male tutte le persone che stanno bene per darsi dell'ansia, delle emozioni perché forse è una certa invidia che hanno loro. Tutti, tutti, tutti. Ma perché quello sta bene? Io quest'inverno non ho avuto né la freddore, né la febbre, né un mal di pancia, né mal di denti, né niente. Certo che questa beatitudine non sarà eterna, però ce l'ho fatta e l'inverno sta passando tra pochi mesi, neanche un mese, due e primavera, la mia stagione preferita. Io li prenderò a fare in viaggi, però vorrei, ho scoperto, detto da un mio amico, che sono molto belle le pianure, le parti pianeggianti. Ebbene, ebbene, ho scoperto l'altro giorno da un mio amico che, perché devo andare su e giù dalle montagne, su quei sentieri rocciosi. Così bello camminare in una zona piana dove c'è la pianura che si vede all'infinito, come la pianura di Lodi. Un po' meno della Brianza, pizzichettone, è stupendo, ma ci penserò. Basta che Aldo vada dove mi porta il cuore, il sentimento umano, perché io ci tengo agli amici a questa opportunità che ogni giorno mi danno idee in senso positivo. Solo gli amici che mi danno idee in senso positivo, che mi aiutano a crescere, che mi fanno percorrere della mia vita un'esistenza tale, dove ricordo, riemerge sempre in situazioni nuove da poter rivivere una vita nuova. Aldo!